È un problema che ci sono alcune tratte che sono ancora rimaste agli anni 60, abbiamo parlato in questo caso della Puglia, ma possiamo parlare tranquillamente anche di tratte in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Emilia, dove non è solamente il problema del binario unico, il problema del binario unico è un problema grosso, io penso a una tratta della mia zona, una tratta che collega Milano a Vigevano, che comunque porta quotidianamente centinaia di migliaia di pendolari sul capoluogo e oggi siamo ancora al binario unico, però è anche un problema di tecnologia, un problema di… Cioè di per sé il binario unico non è una minaccia alla sicurezza se fossero utilizzati i sistemi tecnologici… È un problema però che limita la velocità, limita l'efficienza, limita… Anche la frequenza, no? Certo, limita la frequenza perché col doppio binario si potrebbero fare di più.